È stato presentato il Festival Un altro Genere di Forza, che si svolgerà a Martina Franca negli spazi del Liceo Scientifico Tito Livio e del Teatro Nuovo. Il Festival, alla sua prima edizione, si presenta come un'occasione per risignificare il concetto di forza, che per millenni è stata associata al mito della forza virile. In questa tre giorni di festival, grazie a laboratori, incontri, mostre, seminari, presentazione di libri e musica dal vivo, si costruirà la narrazione di un altro genere di forza appunto, che si esplica come capacità di dar corpo e forma a quello che le donne possono essere. I centri antiviolenza hanno fatto in questi anni tantissime cose, tra cui non solo accompagnare le donne, ma anche a valorizzare le loro forze. Le donne non nascono vittime, le donne vengono vittimizzate dalla forza oppressiva, violenta, maschile, in un certo periodo della loro vita, per una certa intensità, frequenza, ma le donne nascono libere e nascono forti. In questo momento storico particolare, in cui come sappiamo i dati sulla violenza subita dalle donne sono ahimè sempre allarmanti, se non in continua crescita, quindi l'amministrazione comunale non può che sposare con grande entusiasmo questo festival. Benvengano queste iniziative, benvengano delle reti di supporto tra realtà che sul territorio puntano appunto a accendere i riflettori su delle tematiche anche difficili da affrontare, anche scottanti.